Meghan Markle era affascinata dalla storia della famiglia reale e si divertiva a passare del tempo con il principe Carlo per discutere del passato prima che se ne andasse drammaticamente, secondo l'esperta reale Emily Andrews. Parlando nell'ultimo documentario reale di Channel 5, Meghan at 40. The Klim to Power. Che andrà in onda sabato 24 luglio su Channel 5. L'esperta reale Emily Andrews ha spiegato come Meghan avesse un interesse ardente per la storia della famiglia reale e abbia trascorso molte ore a ricevere lezioni di storia del principe Carlo a casa sua Clarence House. Punto. La signora Andrews ha spiegato come la relazione della coppia sia cresciuta fortemente a causa degli interessi condivisi, ma la relazione si è inasprita quando Meghan e Harry hanno lasciato la famiglia reale l'anno scorso. Ma la signora Andrews ha ipotizzato come la relazione potrebbe essere risolta quando Charles diventa re. L'esperto reale ha dichiarato. Il rapporto tra Meghan e Charles una volta era così buono. Charles l'adorava, avevano molto in comune, l'arte, la musica. E in una sorprendente ammissione, la signora Andrews ha rivelato che Meghan si è lanciata nella conoscenza della storia. Punto. Ha spiegato. Lei, Meghan, era solita andare a Clarence House per avere, effettivamente, lezioni di storia con Charles sulla storia della famiglia reale. La signora Andrews ha spiegato come sia a Meghan che Charles hanno apprezzato molto questo e il loro stretto legame è cresciuto di conseguenza. Ha aggiunto. Charles era un vero storico appassionato. Meghan aveva sete di conoscenza. Punto punto. La signora Andrews ha aggiunto come hanno avuto un ottimo rapporto. Ma la relazione è attualmente abbastanza a pezzi a causa degli attacchi fatti da Harry e Meghan nelle interviste dopo la loro partenza dalla famiglia reale per iniziare una nuova vita in California. I commenti arrivano dopo le notizie del quotidiano Daily Mail di sabato secondo cui il principe Harry ha firmato un contratto con gli editori per pubblicare quattro nuovi libri in un accordo che si ritiene valga 40 milioni di dollari.